Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì che ancora una volta vedrà alta pressione sul Mediterraneo e su Italia, la situazione non si sblocca, mentre in alcune zone d'Europa sono tornate le piogge, ad esempio in Inghilterra dopo i valori record dei giorni scorsi, da noi ancora tutto tace. Infatti guardate come nuvolosità, nulla da segnalare, le perturbazioni una volta che si avvicinano al nostro paese sembrano dissolversi a causa proprio di questo campo di alta pressione. Precipitazioni, vi segnalo giusto qualche occasionale temporale di calore nelle ore pomeridiane sulle zone alpine, si vedrà spuntare qualche macchione azzurra, ma rimangono fenomeni isolati con il grande problema della siccità che si aggrava ulteriormente. Quindi in definitiva ci attendo venerdì da piena estate, sole da nord a sud, un po' di variabilità in montagna, ma anche gran caldo. Temperature in ulteriore aumento, si suderà davvero in tutta Italia, le zone più roventi sanno la pianura padana e le aree interne del centro-sud, specie dell'Italia centrale, ma anche al mare il caldo si fa piuttosto pesante. Salgono tra l'altro anche le temperature serali e notturne, come se non bastasse. Per sapere nel dettaglio che valori si raggiungeranno proprio da voi, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.